Noi contiamo per gli esperimenti che abbiamo fatto di avere ancora un forte supporto e di avere facilità di convincimento di queste persone che non sono nostri antagonisti, sono dei nostri ma rassegnati, tanto dice le cose non riusciamo a cambiarle col voto. Bene, Forza Italia si sta strutturando in maniera veramente organizzata e io sono sicuro che alle prossime elezioni, soprattutto se avremo il tempo e le elezioni saranno come io penso nel 2018, noi ci presenteremo con l'assoluta intenzione di vincere le elezioni. Quindi non c'è nessun passo indietro, ci sono molti passi avanti e stiamo trovando un'accoglienza, una voglia di collaborazione soprattutto nei piccoli paesi che addirittura ci ha sorpreso e incoraggiato.